Oggi ottava tappa. Dove andiamo? Andiamo a Caracchetta. Gambe, sedere. Benissimo. E tu cosa dici? Guarda che gambe. Vado benissimo. Voglio solo arrivare a Stintino e stare due notti in spiaggia. Ecco. Lasciamo Kia e in breve arriviamo nei pressi di Pula. Purtroppo dobbiamo percorrere alcuni tratti di statale trafficata. Pedagliamo tesi. Appena possibile deviamo per strade secondarie, più lunghe ma più belle e rilassanti. Il vento rinforza nuovamente e affrontiamo alcune discese senza bisogno di toccare i freni. Poi arriviamo nella zona industriale di Cagliari. All'ora di pranzo cerchiamo un posticcino comodo e tranquillo e infine lo troviamo. Ci mettiamo in marcia. Ci sono 35 gradi e il vento è di nuovo contrario. Arriviamo poi alle saline di Cagliari che percorriamo lentamente, rilassati, per meglio goderci i meravigliosi scenari. Grazie a tutti! Ormai manca poco a Cagliari e incredibilmente ci troviamo a pedalare in una grossa strada deserta. Poi purtroppo dobbiamo percorrere un lungo, trafficato e pericoloso ponte. Raggiungiamo quindi la parte alta della città, dove passeremo la notte. A cena reintegriamo abbondantemente le calorie consumate. Poi breve passeggiata notturna. Non perdetevi la tappa 9 e se non l'avete ancora visti gli episodi di Alessandra e Dante sulla Via Francigena. Grazie a tutti. Grazie.